Come è nata l'idea di fare la ricerca all'interno di questo maniero di Saliceto? È nata grazie anche all'interessamento di una testimone che ci ha dato la possibilità di accedere a questo maniero, a questo castello, a questo palazzo del 1300. Il perché Spazio Tesla ha deciso di perseguire questa strada è perché seguendo tutte quelle che sono le ricerche di confine ci sembrava giusto per dare delle valore aggiunte alle nostre ricerche, collaborare assieme a Gian Paolo Saccomano e ai SIRP per quanto riguarda la ricerca all'interno di questo castello molto misterioso e tra l'altro poco conosciuto dai piacentini e in mezzo alla pianura padana proprio tra Corte Maggiore e Cadeo. Che cosa avete scoperto grazie alla vostra attività e alle vostre strumentazioni? Allora sicuramente il luogo è carico di energie che probabilmente hanno un fondamento negativo perché sono successi di fatti storici abbastanza violenti, abbastanza gravi. C'era un pozzo delle lame al tempo dei feudi e ci sono stati dei momenti abbastanza brutti durante la seconda guerra mondiale perché c'era probabilmente un avamposto dei nazisti. Sicuramente c'è stata della gente nel sottotetto che è stata tenuta prigioniera e questo probabilmente ha caricato il posto di energie. Energie che abbiamo rilevato con i rilevatori K2 che sono i rilevatori di frequenze elettromagnetiche che hanno dato dei risultati abbastanza significativi e poi abbiamo rilevato con le apparicature audio sofisticate che utilizziamo grazie al nostro tecnico Fulvio Kaimi degli EVP, quindi delle voci, le cosiddette voci al di là, voci che non si sentono al momento che hanno detto qualcosa che ha a che fare con la storia del luogo e questo evidentemente potrebbe essere una fonte dei fenomeni. E' una sensitiva? Che cosa ha avvertito all'interno di questa struttura? La mia presenza in questa indagine è appunto rilevare delle presenze e parlare con loro per aiutarli a risolvere eventuali sospesi di modo che possano non creare più problemi. Quali sono questi sospesi? Si può al di là di quello che abbiamo detto in merito alla ricerca storica? Solitamente perché non vengono o ricordati oppure sono stati uccisi in maniera drammatica e quindi hanno bisogno di essere ascoltati, di esprimere il loro dolore e la loro storia e in questo modo anche aiutati con la preghiera, cosa in cui io credo molto. Si può convivere con queste presenze? Benissimo, io lo faccio da quando ero piccola e mi ha aiutato moltissimo. Non è stato facile ma oggi sono più tranquilla e quindi posso anche collaborare con gruppi che ha strumentazioni diverse dalla mia e possibilmente si può condividere questa esperienza. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.